Sicuramente non è facile creare sviluppo tramite la cultura, ci sono moltissimi esempi in Italia di contesti territoriali ricchissimi di cultura in cui è ancora difficile attivare il sviluppo locale soprattutto dal punto di vista di questi turistici. Certamente l'impatto turistico è uno degli impatti attesi in più davanti quando si parla di politica del sviluppo centrale sulla cultura, io però a me piace pensare che la cultura non serve solo a questo ma serve anche a quello e che gli obiettivi economici e sociali siano complementari.